Ci sarebbe un cortocircuito di un frigorifero all'origine dell'incendio che si è sviluppato domenica a tarda sera in un'abitazione al piano terra di via Marionacci a Lecce. Ad avere la peggio è stato il proprietario di casa, un giovane dello Sri Lanka da anni residente in città, che ha riportato ustioni in varie parti del corpo, soprattutto al torace, ricoverato all'ospedale Vitofazzi di Lecce per una mancanza di posti letto nel centro grandi ustioni del Perino di Brindisi. Il lese le altre persone, una decina in tutto, che occupavano i due appartamenti al primo piano. In un caso, a liberare gli occupanti, sono stati i vigili del fuoco che con una scala mobile hanno raggiunto il terrazzo dove si erano rifugiati perché l'androne era stato invaso dalle fiamme. Una volta spente le lingue di fuoco che hanno danneggiato pareti e suppellettili, si è proceduto al sopralluogo dei caschi rossi per accertare con esattezza il punto d'innesco. La zona è stata raggiunta dal personale del 118 e dagli agenti della questura di Lecce.